Ci avvicina agli studenti e ci permette appunto di coinvolgerli anche nelle nostre attività e soprattutto nella conoscenza anche di quello che è il metodo della ricerca scientifica. Un concorso europeo per il miglior giornalismo scientifico e civico sui temi della sostenibilità ambientale rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori è l'iniziativa lanciata da EcoSteam, un progetto ambizioso che si sta avviando a conclusione. EcoSteam permette alle scuole superiori d'Europa che vogliono trattare l'ambiente di usufruire di metodologie didattiche, materiali, strumenti da applicare nelle ore di educazione civica ma anche in modo trasversale in tutte le altre materie curriculari. E adesso con questo concorso il tema della sostenibilità permea ancora di più la vita e l'attività dei giovani che sono chiamati ad essere opinion leader e anello di congiunzione intergenerazionale tra gli adulti di oggi e di domani. EcoSteam in più di due anni ha raggiunto risultati importanti grazie anche all'intenso lavoro di CISPEL Toscana in qualità di coordinatore con il sossegno di Alia, Estra e Publiacqua. A Firenze è coinvolto il liceo Galileo. Per noi con questo progetto, con EcoSteam, il desiderio che abbiamo è mettere a disposizione le competenze delle nostre aziende per aiutare i professori, i maestri a iniziare un percorso formativo importante di informazione, stimolo, riflessione.